Il segreto dell'anello. Le avventure di Jack Bauer. Volume 1. Romanzo di Roberto Borzellino. Capitolo II. L'ambiguo potere dell'anello. Jack aveva invitato a cena i suoi migliori amici, Samuel e Victor, immaginando che sarebbe stata una serata memorabile. La moglie e i figli erano fuori città e la casa era tutta per loro. Dopo aver addentato l'ultimo boccone di pizza, Jack gli fece cenno di accomodarsi sul divano. Era giunto il momento di svelare il segreto. «Amici miei, devo confidarvi una scoperta incredibile», esordì, con gli occhi che brillavano per l'emozione. «Vi ricordate l'antico anello dorato che abbiamo trovato durante la nostra ultima spedizione?» I due annuirono, in attesa di saperne di più. «Ebbene, quella notte l'ho provato per caso e, ragazzi, non ci crederete mai!» Fece una pausa teatrale, assaporando la tensione crescente nei loro sguardi. «Quell'anello è un portale magico verso altre dimensioni!» Samuel alzò un sopracciglio scettico. Victor spalancò la bocca stupefatto. «Dimensioni parallele? Vuoi dire, universi alternativi?» chiese Victor con un filo di voce. «Proprio così, hanno i Jack entusiasta». E iniziò a descrivere nei minimi dettagli la sensazione di vertigine, il vortice oscuro, le visioni di mondi alieni che aveva sperimentato. Raccontò del misterioso incontro con Aurora, una donna dagli occhi di ghiaccio, che gli aveva promesso di svelargli i segreti dell'universo. Gli amici erano ipnotizzati, sospesi tra dubbio e meraviglia. Jack li esortò ad avere fiducia, e per dimostrare che le sue parole fossero vere, prese un oggetto di metallo dalla cucina e l'avvicinò direttamente all'anello. Tutti osservarono rapiti, mentre si trasformava, sotto i loro occhi, in oro puro. Trattennero il fiato, increduli, mentre il metallo assumeva un colore caldo e prezioso. Per un attimo nessuno fiatò, troppo esterrefatti per commentare il prodigio. Poi Victor ruppe il silenzio, «è incredibile! Con quel potere potremmo essere più ricchi di un re!», esclamò con avidità. Samuel, invece, pareva turbato. «Non so, forse è troppo potere per degli esseri umani. Andrebbe riportato lì dove lo abbiamo trovato», suggerì con prudenza. «Ma cosa ci?» «Questo anello è un colpo di fortuna. Vedrai che le nostre vite cambieranno radicalmente in meglio», ribatté Victor con vehemenza. I tre iniziarono a discutere animatamente su come sfruttare l'anello, tramutando oggetti in oro e rivendendoli per accumulare ricchezze. Samuel scosse il capo preoccupato. «Diventeremo avidi e corrotti. Nessun bene può venire da un potere così innaturale», affermò convinto. Ma Victor, ormai accecato dalla prospettiva della ricchezza facile, propose di tenere segreta l'esistenza dell'anello e usarlo solo per arricchirsi personalmente. Chiese a Jack se l'anello avesse anche altri poteri, oltre a quello di trasformare gli oggetti in oro, in modo da potersene servire anche per prevedere l'andamento del mercato azionario. Jack rifletté su quella domanda. «Effettivamente, durante le sue esperienze attraverso l'anello aveva percepito una sorta di intuito premonitore, come se fosse in grado di vedere possibili linee temporali alternative. Forse, concentrandosi, avrebbe potuto sfruttare quella facoltà per prevedere anche l'andamento del mercato azionario». Samuel era contrariato dalla piega che stavano prendendo le cose, ma ormai gli altri due amici erano elettrizzati dalle possibilità offerte dall'anello. Per il momento, decise di assecondarli. Si misero davanti al computer e aprirono alcuni grafici sull'andamento passato di titoli azionari importanti. «Concentrati sull'anello e vedi se riesci a percepire come si muoveranno queste azioni nei prossimi giorni», disse Victor con impazienza. Jack chiuse gli occhi e si concentrò intensamente sulla sensazione spazio-temporale amplificata, che già altre volte aveva provato usando l'anello. Dopo alcuni istanti, parve ricevere delle visioni fugaci sul possibile andamento delle azioni che avevano scelto. I tre discussero le previsioni, confrontandole coi grafici sullo schermo. Jack affermò convinto che, secondo le sue percezioni amplificate, azioni come Apple e Amazon erano destinate a salire, mentre altri titoli, come quello della compagnia petrolifera BP, sarebbero scesi nelle settimane seguenti. Gli amici sembravano scettici, ma decisero di rischiare e di investire mille dollari a testa. Acquistarono azioni Apple e Amazon, e giocarono al ribasso su quelle della BP. Rimasero incollati al monitor per l'intero giorno e la notte successiva, guardando con eccitazione le quotazioni variare. Proprio come predetto da Jack grazie all'anello, le loro operazioni fruttarono ingenti guadagni, decuplicando l'investimento iniziale in sole 24 ore. A quel punto non ci furono più dubbi sulla veridicità del potere dell'anello, ma ben presto la discussione tra i tre degenerò, ognuno determinato a sfruttare quel potere per arricchirsi individualmente. Dobbiamo assolutamente sfruttare al massimo questa opportunità. Incrementiamo gli investimenti e in poco tempo saremo miliardari, esclamò Victor, con una luce di cupidigia negli occhi. «No, è troppo pericoloso, il potere ci sta corrompendo. Dovremmo distruggere questo anello prima che sia troppo tardi», replicò Samuel, sempre più a disagio. Jack era combattuto. Da una parte anche lui era affascinato dalla possibilità di sistemare i suoi problemi economici e vivere nel lusso, ma sapeva che Samuel aveva ragione, quel potere stava risvegliando in loro istinti oscuri. La discussione si fece sempre più accesa, finché Victor, fuori di sé dall'avidità, si frappose fisicamente tra gli altri due amici. Quindi bloccò la mano di Jack, quella dove portava l'anello, e come se fosse in preda a una furia cieca, gli urlò, «Noi non ce ne andremo da casa tua fino a quando non avremo sfruttato appieno il potere dell'anello». A quel punto la situazione peggiorò completamente. Nella violenta colluttazione che ne seguì, Victor colpì Samuel facendogli sbattere la testa contro il bordo del tavolo. Samuel stramazzò a terra privo di sensi, col sangue che gli usciva copioso dalla ferita alla testa. «L'hai ucciso», urlò Jack inorridito, accorrendo verso l'amico esanime. Poi afferrò il telefono e compose il 911 con mani tremanti, invocando l'intervento di un'ambulanza. Nell'attesa del pronto intervento, applicò degli strofinacci di cotone sulla ferita nel tentativo di tamponare l'emorragia. Victor approfittò del panico e della confusione che si era creata per avventarsi su Jack. Con violenza gli sfilò l'anello dal dito e poi si precipitò fuori dall'appartamento, di corsa, facendo perdere le sue tracce nella notte. Jack avrebbe voluto inseguirlo per riprendere l'anello, ma non poteva abbandonare l'amico ferito, che stava morendo per colpa sua e a causa di quel maledetto oggetto magico. «Resisti Samuel, ti prego», lo implorò, mentre l'amico giaceva in un lago di sangue, immobile e con gli occhi sbarrati fissi al soffitto. Dopo alcuni interminabili minuti, finalmente arrivò l'ambulanza. I paramedici si affrettarono a stabilizzare Samuel e a caricarlo sulla barella, poi partirono in tutta fretta verso l'ospedale con la sirena spiegata. Jack salì sull'ambulanza e tenne la mano all'amico durante il tragitto, parlandogli per cercare di tenerlo sveglio. Ma Samuel aveva perso i sensi e non dava più segni di vita. Al pronto soccorso, i medici non poterono fare altro che indurlo in coma farmacologico per limitare i danni cerebrali. «Ha perso molto sangue, la prossima notte sarà cruciale», disse il dottore con sguardo grave. Jack passò le ore al capezzale di Samuel, tormentandosi per i sensi di colpa. Aveva portato quella tragedia sui suoi amici, rivelando il potere dell'anello. Se solo avesse tenuto la bocca chiusa. Verso l'alba arrivò anche Anna, l'attuale compagna di Samuel, che si era premurato di avvertire al telefono. «Com'è potuto accadere?», si indiozzò con occhi rossi e gonfi. «È stata solo una terribile fatalità», minimizzò Jack, incapace di rivelarle la verità. Le ore passarono lentamente, finché giunse la notizia che Samuel aveva superato la grave crisi e le sue condizioni erano stabili. Dopo una notte insonne passata in ospedale, Jack lasciò Anna al capezzale di Samuel e tornò a casa sua. La vista del sangue ancora sul pavimento gli fece contorcere lo stomaco. Prese un secchio, una spugna e un detergente e pulì, meticolosamente, fino a far sparire ogni traccia. Poi si fece una doccia, si cambiò e preparò uno zaino con del cibo, una torcia e un kit di pronto soccorso. Sapeva di dover rintracciare Victor e recuperare l'anello, prima che fosse troppo tardi. Estrasse una mappa della zona e segnò una croce su un punto preciso. Si trattava di una vecchia baita nei boschi dove da ragazzini si rifugiavano per giocare e fare campeggio. Forse Victor si era nascosto proprio lì, credendo che nessuno l'avrebbe cercato. Con determinazione, uscì di casa e salì in macchina, dirigendosi verso la montagna e i boschi, ma quando la raggiunse la trovò deserta. Chiamò il nome di Victor ad alta voce, ma non ottenne alcuna risposta. Con il cuore pesante, iniziò a cercare indizi della sua presenza, rovistando in ogni angolo. Mentre esplorava i dintorni del bosco, improvvisamente sentì un lamento, estrasse il coltello che aveva preso come precauzione e si avvicinò cautamente alla fonte del suono. Dietro un grosso albero, semi nascosto dagli arbusti, giaceva a terra Victor. Con orrore, notò che il suo amico si teneva la mano, quella dove aveva infilato l'anello, stretta contro il petto, contorcendosi per il dolore. La mano appariva nera e disseccata, come corrosa dall'interno da una forza demoniaca. Victor gemette, implorando aiuto con voce spezzata. Jack rimase paralizzato da quella vista raccapricciante. L'anello stava consumando il corpo del suo amico dall'interno, come punizione per la sua avidità smisurata. Doveva fare qualcosa o sarebbe morto fra atroci sofferenze. Le intricate incisioni sull'anello brillavano ora di una luce rossastra malefica e Jack poteva percepire le onde di puro male emanare dall'oggetto. In quello stesso istante, Victor emise un urlo straziante, con gli occhi rovesciati all'indietro per l'agonia lancinante. «Toglimelo, ti prego, fa malissimo», implorò con un filo di voce. Jack esitò, terrorizzato da quel potere malvagio, ma non poteva lasciare morire l'amico in quel modo terribile. Tremante, afferrò la mano inaridita di Victor, facendo leva, con tutte le forze, per sfilare l'anello ormai incastonato nella carne necrotica. Victor urlò di dolore mentre Jack tirava e torceva, finché con uno schiocco viscido l'anello finalmente si staccò, insieme a brandelli di pelle nera. Victor perse i sensi, sopraffatto dal dolore. Jack fissò l'anello nel suo palmo, pulsante di oscura energia demoniaca. Aveva portato solo morte e follia, andava distrutto, ma mentre stava per lanciarlo lontano, una voce gentile risuonò nella sua mente, indossalo, Jack. Solo tu puoi dominarne il potere. Fidati di me. Sobbalzò sorpreso. Gli sembrava la voce di Aurora, la guida incontrata nelle sue visioni. Ma poteva fidarsi ancora di lei dopo tutto il male che quell'oggetto aveva causato? La voce insistette con dolce fermezza. Alla fine, cedette. Con mano tremante infilò l'anello al dito e subito la luce rossastra pulsante si mutò in azzurro, poi in bianco abbagliante, infine cessò del tutto. L'anello ora sembrava, nuovamente, un innocuo oggetto. Jack lo fissò ipnotizzato, quando improvvisamente l'ambiente attorno a lui iniziò a distorcersi e a ruotare vorticosamente. Si ritrovò risucchiato in un cunicolo spazio temporale multicolore, che lo trascinava verso una nuova dimensione. Dopo quella che parve un'eternità, la corsa rallentò fino a fermare del tutto il vortice. Jack si ritrovò fluttuante in una dimensione dei contorni indefiniti, popolata da misteriose entità fatte di sola luce e energia. Lo accolsero con curiosità e meraviglia, comunicando tra loro con suoni armonici indicifrabili. Provò a parlare, ma anche la sua voce uscì trasformata in una melodia. Un'entità femminile, dagli occhi amorevoli, gli si avvicinò e riconobbe Aurora, la guida che aveva già incontrato. Lei gli spiegò, telepaticamente, che si trovava in una dimensione superiore, abitata da antiche coscienze celestiali. Sotto la sua guida, Jack attraversò di nuovo il tunnel spazio temporale, questa volta diretto verso altri mondi paralleli simili al suo. In uno di questi mondi, tutto era fatto di metallo e vapore, abitato da automi dalle sembianze umane. In un altro, regnava una perenne oscurità, popolata da creature deformi che si muovevano striscianti nel buio. Ad ogni salto dimensionale, Jack vedeva scorci di realtà sempre più inquietanti ed aliene. Sentiva che l'anello stava attingendo e materializzando i suoi incubi e le sue paure più profonde. Finalmente, il vortice dimensionale cessò in un mondo desolato, con cieli rossi e terreni desertici. Jack vagò a lungo in quel paesaggio surreale, quando in lontananza gli apparve una figura ammantata di luce che gli fece cenno di avvicinarsi. Era un vecchio saggio con una lunga barba bianca, che si presentò come il custode delle dimensioni parallele. Gli spiegò che l'anello attingeva all'inconscio di chi lo indossava, creando mondi specchio delle sue emozioni. Poteva essere una benedizione o una maledizione. Con un ultimo flash accecante, il vortice dimensionale cessò, catapultando Jack in un paesaggio che gli parve stranamente familiare. Si ritrovò in una radura verdeggiante, con dolci colline all'orizzonte, il cielo azzurro e limpido e gli alberi rigogliosi. Eppure qualcosa non quadrava. Non un suono di automobili o aerei turbava quella quiete bucolica. In lontananza, scorse del fumo alzarsi da quello che pareva un piccolo villaggio di capanne. Si avvicinò con cautela e con sua grande sorpresa vide persone vestite con abiti medievali, intenti in lavori artigianali come la tessitura, la lavorazione del legno e della ceramica. Uno di loro lo indicò agli altri e disse, sorpreso, da dove arriva lo straniero con quelle vesti insolite? Jack provò a balbettare, ma dalla bocca gli uscì solo qualcosa di incomprensibile. Aveva attraversato un portale temporale e adesso si trovava in una realtà parallela simile alla Terra, ma ambientata nel passato medievale. Cercando di non dare nell'occhio con i suoi jeans e maglietta, vagò per il villaggio osservando rapito quello scorcio di vita passata. Venne ospitato da una famiglia del posto, che lo accolse come un pellegrino arrivato da terre lontane. Jack si adattò rapidamente alla vita nel villaggio. La mattina aiutava nei campi, imparando a coltivare e raccogliere barbabietole, cavoli e altri ortaggi che non aveva mai visto. Il fabbro del villaggio, vedendolo aitante e robusto, gli insegnò a battere il ferro rovente sull'incudine per riparare attrezzi agricoli. La sera, stremato dal duro lavoro nei campi, si addormentava rapidamente nel pagliericcio che la famiglia ospitante gli aveva preparato nella capanna dove riposavano anche i loro animali. Una sera di giugno, mentre sedeva attorno al fuoco con altri uomini, sentì uno di loro bisbigliare, ho saputo che gli inglesi si stanno radunando oltre il fiume Forte. Pare sia imminente una battaglia, forse già tra pochi giorni. Jack ebbe un sussulto. Aveva letto della vittoria di William Wallace sugli inglesi avvenuta l'anno prima. Ma ora, nel 1298, gli scozzesi parevano destinati ad una disfatta. Avrebbe dovuto trovare un modo per cambiare il corso degli eventi. Quella notte, sdraiato nel pagliericcio, rimase sveglio a riflettere mentre il resto del villaggio dormiva. L'anello gli aveva dato il potere di plasmare la realtà. Avrebbe potuto evitare un sicuro spargimento di sangue? La mattina seguente, sulla collina che dominava il villaggio, vide il capo locale radunare guerrieri e distribuire spade e freelance. Gli inglesi si stanno ammassando oltre il fiume. Dobbiamo difendere le nostre terre, gridò quell'uomo, eccitando gli animi alla battaglia, mentre donne e bambini venivano condotti al riparo nelle grotte circostanti. Jack provò ad avvertirli che un attacco frontale sarebbe stato un bagno di sangue ma, ovviamente, non gli diedero ascolto. Quella gente coraggiosa non conosceva altro modo se non combattere per la propria libertà. Quando il capo gli porse una spada, Jack la rifiutò. Avrebbe trovato un modo pacifico per evitare lo scontro, usando la saggezza ed empatia apprese nei suoi viaggi dimensionali. Si concentrò sull'anello, visualizzando un futuro dove inglesi e scozzesi deponevano le armi e trovavano un terreno comune di pace. L'anello pulsò e proiettò questa visione attorno, direttamente nelle menti dei guerrieri. Come risvegliandosi da un sogno, scozzesi e inglesi si guardarono stupiti, domandandosi perché stessero per combattere. Gettarono le spade e si strinsero la mano, pronti a convivere pacificamente. Jack sorrise, la saggezza aveva trionfato sull'odio. Subito musicanti accorsero con gli uti e cornamuse, intonando allegre melodie. Le fanciulle del villaggio presero a danzare, spensierate, attorno ai fuochi. Anche guerrieri scozzesi e inglesi si unirono alla danza, battendosi amichevolmente le spalle, mentre i bambini correvano felici attorno al falò. Jack osservò, commosso, quelle scene di gioia. In quel mese trascorso nel villaggio medievale si era affezionato agli abitanti, in particolare ai bimbi della famiglia che lo aveva ospitato. Aveva stretto sincera amicizia col capofamiglia, condividendo storie e sapienza davanti al focolare. Ora che la pace regnava sovrana, avvertì che il suo compito era terminato. Lanciò un ultimo sguardo pieno d'affetto a quel mondo e poi si concentrò sull'anello, che stava iniziando a vibrare ed emettere una luce bianca sempre più intensa. Era giunto il momento di tornare a casa o l'anello lo avrebbe trasportato chissà dove e fatto vivere nuove avventure.